Fare spesa e uscire dal supermercato senza pagare il conto con la complicità della cassiera parente dei clienti, oppure prelevare generi alimentari all'ora di chiusura del market e sempre senza pagare responsabile ancora una cassiera. Storie di dipendenti infedeli che sono state pazientemente ricostruite dagli agenti della sezione antirapine della squadra mobile e che si sono concluse con la denuncia di tre persone. Nel primo caso era stato il direttore di un supermercato cittadino a notare che alcuni clienti sudamericani, dopo aver prelevato vari articoli, si dirigevano sempre dalla stessa cassiera assumendo un atteggiamento sospetto. Una scena che si era ripetuta diverse volte fin quando lo straniero ci ha riprovato. Carrello pieno di merce, 28 prodotti tra cui un televisore totale di oltre 300 euro ma scontrino da 22 euro. Era la cassiera parente del sudamericano a reggere il gioco. La gran parte dei prodotti faceva finta di non vederli. È stata indagata in stato di libertà per furto aggravato continuato così come il cliente. Nel secondo caso a finire nei guai è stata un'altra cassiera. Era sempre lei la sera a chiudere le serrande del market e con cadenza giornaliera prima di andarsene prelevava prodotti alimentari senza pagare il conto. Fermata all'uscita del supermercato con confezioni di pane e prosciutto non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità. È stata indagata per il reato di furto aggravato continuato.